Noi, dopo la tua prestazione in campo, e tu come ti senti? Felice, felice perché la squadra, peraltro abbiamo conseguito una vittoria molto importante ma soprattutto abbiamo dimostrato, abbiamo fatto una prestazione convincente quindi molto felice per questo, io penso che poi nella vita il lavoro paga sempre io chiaramente sono arrivato qui e più partite passano, io gioco più riesco a conoscere bene i miei compagni quindi sono molto felice, soprattutto come la tua settimana vista, prima di tutto essere utile ai miei compagni quindi io ho sempre avuto queste caratteristiche che per me, la prima cosa è riuscire a essere utile riuscire ad apportare qualcosa al gioco della squadra, quindi sono molto felice A proposito dei compagni, com'è giocare così vicino ad un talento come si fa a San Giovinco? Ma giocare vicino ad un talento, sono giocatori molto forti, che hanno dei colpi, che hanno quella qualità in più è sempre meglio giocare, ne godo io, ne godo tutta la squadra in questo momento stiamo salutando la vena realizzativa di Sebastian, che sta facendo molto su questo aspetto e in questo senso sta diventando sempre più un giocatore importante anche come Pelli penso che Pelli sia molto importante, speriamo che tutti gli esigono